Aveva preso sulle proprie spalle un centrodestra alla deriva, vittima di un finale di legislatura incolore, con l'ex governatore Scopelliti costretto alle dimissioni dopo una condanna e l'amministrazione regionale che tirava a campare il regime di prorogazio. La sua battaglia con Mario Oliverio sembrava persa in partenza. Ne era ben conscia Vandaferro. Un'altra eventualità, l'ex presidente della provincia di Catanzara non aveva invece messo in conto, ovvero la sua esclusione dal Consiglio regionale. Da lì il ricorso al Tare e il rinvio degli atti alla Corte Costituzionale che dovrà pronunciarsi sulle contraddizioni dell'attuale legge elettorale. Vandaferro attende con trepidazione l'esito della vicenda per varcare finalmente la soglia di Palazzo Campanella e liberare l'astronave, parole sue, da padrini e padroni della politica calabrese. Auspico di entrare in Consiglio regionale non per fare battaglie contro, ma sicuramente per fare battaglie per una terra completamente differente nella cultura, quella terra che dicevo in campagna elettorale, la Calabria che può diventare ciò che è, quella Calabria senza né padrini né padroni politici.